La Toscavi è fornetrice di RFI praticamente da sempre. La nostra forza e la nostra caratteristica è quella di produrre costumizzato secondo specifiche esigenze del cliente. In questo caso abbiamo progettato e realizzato delle fruste preassemblate a 150 kV per intervento di emergenza nella cabina primaria di 7 bagni. La frusta ha come elemento principale costituente un cavo in rame a 150 kV con un conduttore in classe 6 costituito da più di 3000 fili, un isolamento in gomma, uno schermo a calza super flessibile e una guaina particolarmente resistente alla lacerazione e alle abrasioni. È stato costruito e realizzato con le logiche con cui noi da sempre produciamo cavi per la posa mobile. Le connettorizzazioni sono state effettuate con accessori Fistere. Le connettorizzazioni sono state effettice. Fistere è un gruppo leader a livello mondiale, quale ha apprezzato partner dei sistemi per infrastrutture energetiche. Di fatto anche il più grande produttore indipendente al mondo di accessori per cavi di alta tensione. L'esigenza particolare della sottotazione elettrica di Settebagni era quella di fornire un sistema di accessori o cavi completamente modulare e sconnettibile e che consentisse appunto in caso di esigenza di immobilizzare il sistema e o essere pronto a eventuali interventi in caso di guasto. Questo è stato chiaramente reso possibile grazie alla tecnologia messa in campo da Fistere del sistema Connex che è un insieme di accessori modulari sconnettibili che consentono l'allacciamento a linee provvisore e o allacciamento a linee definitive. Questo consente quindi tempi di intervento molto rapidi a differenza dei sistemi attuali in alta tensione che richiedono tempi di intervento anche lunghi settimane. L'esigenza particolare del cliente in questo caso e RFI era quello di prevedere connessione e disconnessione dell'impianto presenza di eventuali guasti in tempi molto rapidi diciamo all'interno dell'arco della giornata. Grazie a tutti.